alla grosso vacanze potete trovare l'usato sicuro per tutte le stagioni perché dico questo perché il veicolo che vedete alle mie spalle è particolarmente adatto per un uso invernale in quanto la struttura movimento e pareti sono nati per poter sopportare le temperature più rigide si tratta di un Bursner Active 535 e su Ducato è a percorso 130.000 chilometri naturalmente il veicolo godrà di una garanzia sul motore sul cambio sulle parti elettriche sull'utenza e sulla cellula senza alcuna franchisia pensate può essere vostro a soli 15.900 euro è un vero affare vi aspettiamo